Tutto sin troppo semplice per il San Nicolò. La gara contro il Giulianova, l'anticipo, serve per riprendere la marcia nelle zone nobili di classifica. Il campionato dei giallorossi, invece, assomiglia molto alle montagne russe. Bene e con grinta in casa, fragile, troppo fragile, quando questa squadra si allontana dal suo terreno di gioco, mostrando limiti evidenti. Gelsi conferma l'undici almeno in avvio, che ha battuto la re canatese Alfadini la scorsa settimana. Modulo speculare, quello sull'altro fronte di Massimo Epifani, con Bucchi riferimento avanzato, e Terrenzio Bri, coppia centrale di difesa, vista l'indisponibilità di rapino squalificato. Prima metà frazione senza sussulti, poi però il San Nicolò trova il primo vero a fondo alla via della rete. Al ventunesimo Bucchi recupera un pallone rubandolo a proietti e a un difensore giallorosso e deposita col sinistro in fondo alla rete. Proteste dalla formazione giallorossa per un presunto tocco con il braccio dell'ex Campobasso e Teramo. Scarsa la reazione ospite, così dopo una conclusione debole centrale di Merlonghi, è proprio il numero 11 a servire Moretti, un pallone verticale che sembra irraggiungibile, ma l'uscita di Proietti completamente errata. Spiana la strada al tocco dell'attaccante di casa, che con la punta del piede deposita in fondo al sacco, nonostante il salvataggio di un difensore ospite. Strada ancora più in discesa alla mezz'ora, quando il corner ancora di Merlonghi trova sul primo palo sempre Moretti, che gira alle spalle di Proietti, il gol del 3-0. San Nicolò che va vicino al poker in chiusura di frazione, quando il traversone di Massetti da destra trova dalla parte opposta la testa di Merlonghi, che c'entra solo all'esterno della rete. La ripresa ha poco da dire, se non fosse per il San Nicolò che arrotonda ulteriormente il punteggio con Moretti di nuovo, per lui tripletta sul servizio del solito Merlonghi, e al 64esimo con Bucchi, che gira di testa un pallone comodo comodo servito da Massetti. Il gol della bandiera lo realizza il neoentrato Mastrilli al minuto 77 sul servizio verticale di Giampaolo. Per il resto, cambi compresi, è solo una lunga attesa fine al triplice fischio finale, che condanna il Giulianova a rimanere comunque all'ultimo posto in graduatoria. Ma in casa giallorossa è nottefonda, la tifoseria delusa da una prestazione sconcertante chiede il ritorno di Francesco Giorgini e le dimissioni in massa per l'attuale entourage, che arrivano a fine gara perché si dimettono Gelsi e Pisano e domenica arriva la capolista San Benedettese. Se pensano che sia io il problema, io mi metto da parte, poi deciderà quello che è, le decisioni se le prenderà il presidente, quindi le mie dimissioni le dico oggi, adesso, in questo momento qua. Poi deciderò al presidente se accettarlo o no, ma io da oggi non so più la natura del Giulianova. Prenderò un po' di tempo, un po' di riflessioni e prenderemo la decisione giusta. Il nome di Francesco Giorgini, che è stato chiamato dalla curva del Giulianova, è un'ipotesi oppure no? Assolutamente no.